allora stefan siamo qui a buco otto in golf club coliberici c'è un par 5 quasi 500 metri un po di più ma giochiamo questo par 5 in tre colpi per arrivare in green e tu preso il tuo drive qui normalmente tutta la gente con il drive giocano quasi alla parte destra quando tu arrivi da esterno la pallina va a destra e ma quando tu arrivi quasi da interno con calcio la tua pallina fa questo effetto a sinistra allora tocca questo drive per favore con la sensazione di arrivare all'interno stefan prendere la mazza per favore posizione sportivo si può spazio qui perfetto mani non così forte ma morbide e arrivare all'interno della tua pallina vai stefano bel drive posizionato perfetto alla parte sinistra del fairway il secondo colpo non tira molto lungo per favore perché questo buco finisce quasi in discesa allora un colpo da 100 120 metri per arrivare alla parte sopra e vai allora ancora perfetto stefan qui alla parte metà quasi del fairway tu hai un buon questo grine quasi completamente aperta e tempo in discesa allora attenzione per favore non forzare un'altra volta il tuo swing ma molto molto morbide per favore mani morbide e senti la tua mazza bene per favore quando tu hai il piede un po' sotto la tua pallina noi eserciziamo un po' è quasi è questo allora in questo movimento la tua faccia mira a sinistra allora per arrivare molto vicino alla maniera giochiamo un po' più a destra sì perfetto così e vai allora stefan 13 metri dalla bandiera questa grina è molto particolare allora pensi per favore quando la pallina è persa la velocità prende di più dependenza sì stefano 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 vai 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 stefano vuoi con o senza bandiera va bene con ok wow grande par giocato bene complimenti grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti